Ciao, sono Vincenzo Dottorini e arrivo da Matera, sono un imprenditore e ho conosciuto Alfe nel 2014, ho partecipato al primo Rich Now ed è l'attuale wake up call sostanzialmente e di lì mi ha aperto la mente, mi ha fatto capire quali erano le cose importanti all'interno dell'azienda, quali erano gli errori che si commette da imprenditori e effettivamente mi ci sono riconosciuto, ho capito che non erano criticità solo mie ma della maggior parte degli imprenditori e quindi questo è servito a focalizzarmi su quelle cose davvero importanti all'interno dell'azienda, a iniziare a sviluppare un processo di delega e così a recuperare anche tempo per la mia azienda oltre che una maggiore marginalità anche all'interno delle varie attività e dei vari lavori che pian piano abbiamo sviluppato, il fatturato è cresciuto e noi siamo anche un po' più liberi dal punto di vista del tempo da dedicare a noi stessi e alle nostre famiglie. Consiglio questo percorso a tutti gli imprenditori perché anche se come me hanno alle spalle diversi anni, decenni di attività imprenditoriale, effettivamente potersi confrontare in questi hub perché di fatto richiamano tutta una serie di attività imprenditoriali ti dà anche la possibilità di confrontarti e di crescere sulle varie esperienze degli altri.